Eccoci in diretta sulle fonti tv la nostra maratona va avanti e vi presento il nostro ospite che ci ha raggiunto qua in studio ed è l'avvocato Francesca Gardella responsabile del team sostenibilità di Fribli. Buonasera avvocato, buonasera a lei, benvenuta e io presento in due parole Fribli è chiaramente una realtà che fa parte dell'ambito legale, è uno studio però sui generis perché è la prima società benefit di avvocati in Italia e questo insomma comporta anche un certo tipo di filosofia per quello che riguarda sia il famoso tema del work life balance sia appunto quello che è la diciamo riuscire a mantenere l'equilibrio tra la maternità e chiaramente il lavoro per cui appunto lei è una neomamma complimenti per questo e le chiedo però anche di raccontarci com'è la sua esperienza lavorativa in Fribli e in cosa si distingue anche dagli altri studi legali tradizionali prego. Allora Fribli come ha detto lei appunto in quanto società benefit ha quindi diversi obiettivi quindi oltre all'obiettivo di business e finanziari ha anche l'obiettivo di raggiungere un beneficio comune quindi l'attività che noi svolgiamo all'interno di Fribli deve avere un impatto positivo per Fribli e fuori da Fribli quindi nella società in cui operiamo. Tra le diverse finalità di beneficio comune la più importante forse è quella della felicità dei suoi professionisti siamo tutti liberi professionisti quindi facciamo parte di una rete di professionisti che condivide gli stessi valori etici e lo stesso approccio al lavoro e questo ci consente di creare tra di noi nonostante appunto liberi professionisti di creare anche delle sinergie professionali e personali. Come come ci aiuta Fribli a essere più felici? Innanzitutto è uno studio legale dematerializzato quindi grazie alla tecnologia possiamo lavorare dove vogliamo quindi da casa all'estero o negli spazi di co-working che ci vengono messi a disposizione e quindi già questo è un punto innovativo perché appunto la tecnologia ci permette di gestire la nostra giornata lavorativa come meglio crediamo quindi in totale libertà e flessibilità. In aggiunta a ciò veniamo anche seguiti da un team di coach che ci aiuta semestralmente a individuare quelli che sono i nostri obiettivi personali e professionali, ci aiuta a implementare delle strategie per raggiungere velocemente quegli obiettivi ma ci aiuta anche a valorizzare quelli che sono i nostri talenti, le nostre capacità personali. Questo perché? Perché il modello di Fribli va un po' oltre al concetto work life balance perché il professionista per essere felice all'interno del luogo di lavoro deve essere allineato con se stesso quindi non c'è più una separazione vita privata e vita professionale semplicemente noi professionisti siamo liberi di gestirci e di trovare il nostro equilibrio all'interno della nostra attività di tutti i giorni quindi dedicare le ore lavorative ai nostri impegni familiari come meglio crediamo e e soprattutto con estrema flessibilità. E quindi insomma è già una differenza molto importante rispetto agli studi di natura tradizionale no? Allora dipende nel senso l'avvocato può essere un libro è sempre libero professionista e questo assolutamente però dipende se hai un tuo studio professionale quindi sei un libero professionista da solo o titolare del tuo studio personale oppure se sei inserito all'interno di uno studio professionale strutturato e il cui titolare non sei tu. In questo secondo caso le donne avvocato hanno più difficoltà perché di fatto poi l'attività che le donne collaboratrici di questa tipologia di studi sono di fatto dipendenti nella misura in cui garantiscono la loro presenza e il loro impegno tutto il giorno e in presenza e quindi questo spesso le mette in difficoltà nella gestione per esempio di una vita familiare o comunque della vita da mamma. Ecco la mia quindi esperienza in Fribli è molto positiva perché questa struttura mi consente di gestirmi autonomamente liberamente soprattutto senza sentirmi in colpa nel senso che il concetto fondamentale di questo modello è che è importante il tuo contributo che deve essere originale ed è importante la qualità del tuo lavoro e questo modello nato prima del covid ha trovato le conferme ovviamente durante la pandemia perché tutti ci siamo trovati a lavorare da casa ma il nostro lavoro è stato qualitativamente alto indipendentemente dalla nostra presenza in studio o negli uffici e quindi insomma questa brutta esperienza della pandemia ci ha dato conferma della della del successo di questo modello soprattutto per noi mamme ecco che quindi possiamo decidere se lavorare in ufficio oppure se lavorare da casa oppure se lavorare la mattina al pomeriggio io molte volte mi ritrovo lavorare anche dopo cena quando metto a dormire mio figlio lavoro di sera ma non per questo il mio lavoro il mio contributo è minore rispetto a quello che viene dato nelle ore canoniche da ufficio ecco quindi questo è l'elemento distintivo ecco del modello anche perché proprio la maternità è una fase diciamo cruciale per la donna sia a livello familiare sia a livello proprio di carriera per le donne avvocato questo abbiamo sottolineato più volte noi abbiamo un osservatorio e anche dai dati chiaramente che arrivano dal Consiglio Nazionale dalla Cassa Forense si vede proprio che a livello di ingressi nell'avvocatura delle le donne sono comunque superiore agli uomini poi però c'è un uno step che è quello diciamo che avviene verso i 35 anni eccetera al di là del quale poi a livello anche reddituale a livello di partnership all'interno degli studi tradizionali c'è proprio un blocco che deriva proprio da 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 questo periodo ecco io la mia esperienza personale positiva sia nello studio precedente sul quale lavoravo che comunque strutturato è più tradizionale però appunto mi è venuto molto incontro nel momento in cui aspettavo il mio bimbo e nel momento in cui ho dovuto mi sono trovata al bivio di scegliere come proseguire dopo i cinque mesi di maternità ho trovato fribli e ovviamente questo modello mi ha aiutato moltissimo quello che posso raccontare l'esperienza delle mie amiche colleghe avvocato a Milano ma anche a Roma che innanzitutto tardano a fare questa scelta perché sono spaventate dalle conseguenze dall'organizzazione e quello che mi raccontano è che nel momento in cui rimangono incinte non vengono più coinvolte in molte attività nei processi nelle trasferte e purtroppo a seguito della maternità non viene garantito loro condizioni di flessibilità o comunque non vengono trovati degli accordi per venire incontro alle loro esigenze quindi ad esempio in questo momento una mia amica al rientro dalla maternità lavora 12 ore al giorno quindi ecco è questo forse il punto più faticoso per una mamma anche perché ha cinque mesi perché la maternità dura cinque mesi sei quindi in questo modo obbligata ad interrompere l'allattamento quindi a fare anche delle decisioni a prendere delle decisioni anche piuttosto impattanti ecco oltre a quelle organizzative della giornata quindi la difficoltà che incontrano le mie colleghe sono queste e il problema è che nel momento in cui si trovano di fronte a questa difficoltà tanti di loro scelgono di andare in azienda e quindi lasciano la libera professione a fronte delle garanzie che vengono offerte in azienda ma non come scelta di passione perché sono anche avvocate molto molto in gamba appassionate e purtroppo scelgono questa strada per necessità quindi sì no no è chiaramente poi in questo senso il modello fribli è ancora più più importante diciamo così anche perché permette di avere una vita serena che per una mamma che lavora è probabilmente la cosa più importante perché poi se la serenità ti consente di lavorare meglio di essere più appassionate soprattutto questo coinvolgimento e questa e questa passione da anche i suoi frutti ai clienti ecco quindi è evidente che lavorare con delle preoccupazioni delle frustrazioni comporta anche magari un lavoro qualitativamente più basso quindi la serenità dei professionisti infatti è essenziale per fribri proprio per questo motivo perché anche l'output è qualitativamente più alto tra l'altro quello che appunto si può definire come il tema diversity viene comunque affrontato a parole da anche da questi studi strutturati internazionali eccetera poi però a ben vedere a livello di politiche che vengono messe in atto è come diceva lei però la sensibilizzazione va avanti anche a livello diciamo istituzionale per quanto riguarda l'avvocatura abbiamo raccontato l'esperienza anche di Cassaforense che ha realizzato questo documentario sul gender pay gap nelle progressioni intellettuali che sta attuando anche delle politiche e così sta facendo anche l'ordine degli avvocati di Milano le chiedo cosa si può fare di più come dice lei è sempre un discorso culturale quindi tutte queste iniziative sono essenziali anche proprio per far comprendere il messaggio che è importante la qualità anche del lavoro più che la quantità sono queste iniziative culturali sono essenziali anche perché è importante che gli studi comprendano come anche valorizzare le esperienze delle delle neomamme io in particolare in Fribli sono molto supportata e mi aiutano anche a mettere al servizio di Fribli stessa la mia capacità organizzativa il mio problem solving la velocità di pensiero che inevitabilmente diventando mamme si migliorano ecco quindi diventare mamma è anche un po come fare un master quindi tutto sommato sono delle esperienze che possono essere valorizzate anche professionalmente ma al di là del delle iniziative culturali potrebbe essere utile o istituire dei protocolli virtuosi ad hoc come già l'ordine degli avvocati di Milano ha fatto per quanto riguarda il legittimo impedimento in caso appunto di gravidanza o problemi con il figlio la malattia del figlio quindi la donna avvocato può chiedere un rinvio di un'udienza si potrebbero o istituire dei protocolli virtuosi ad hoc dicevo quindi stabilire delle regole all'interno degli studi legali strutturati che hanno delle collaboratrici donne oppure in modo ancora più vincolante si potrebbe aggiungere un articolo al codice deontologico ad hoc che prevede come lo studio si deve comportare con le collaboratrici donne che si trovano ad affrontare appunto la maternità o a rientrare in studio dalla maternità e quindi lo studio magari può intraprendere delle iniziative per venire incontro alle nuove esigenze ecco quindi forse il codice deontologico potrebbe essere un po la fonte normativa dalla quale partire per avere risultati più efficaci ecco tra l'altro la neopresidente del consiglio nazionale forense è donna per cui anche attenta a questo tipo di politiche e appunto l'intervento sul codice deontologico può arrivare praticamente solo dal dal cnf a livello a livello di via libera poi probabilmente si può si può creare anche una commissione ad hoc le chiedo infine che tipo di consiglio si sente dare si sente di dare alle neocolleghe alle donne avvocato che decidono di intraprendere appunto questa carriera e anche il master di maternità il mio consiglio possono venire tutte in freebie purtroppo non sono moltissimi gli studi legali in cui è facile diventare mamma quindi quindi capisco quello che si può quello che si può fare è proprio perché il rapporto all'interno di questi studi un rapporto di collaborazione è importante far sentire la nostra voce quindi comunque trovare degli accordi con gli avvocati con i quali collaboriamo e iniziare questa diciamo battaglia culturale noi stesse ecco quindi di non aspettarci che siano gli studi a venire incontro alle nostre esigenze ma magari iniziare a essere noi promotrici di queste iniziative culturali all'interno proprio degli studi anche perché molte volte magari si tratta di studi che non hanno avuto modo di conoscere le esigenze di due donne e magari non è questione di non sensibilità ma proprio di non conoscenza di quelle che potrebbero essere delle misure che facilitano la nostra organizzazione quindi il mio consiglio forse di avere un po di coraggio e di essere noi le promotrici di questo cambiamento verso uno sviluppo più sostenibile in questo senso dei nostri studi legali bene e questo messaggio lo rivolgeremo anche al nostro prossimo ospite che sarà appunto la coordinatrice del comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di milano per cui più di più chi più di lei ci può dare delle risposte io intanto la ringrazio per essere stata con noi l'avvocato francesca gardella di fribli grazie grazie a voi bene e io vi do appuntamento alla prossima puntata di questa maratona tra poco sulle fonti tv grazie a voi 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 grazie a voi